Ciao a tutti, sono Francesco Ferrari, Francesco per chi mi conosce, per i miei amici e sono qui per parlarvi di questo nuovo lavoro che comincerà, anzi è già cominciato a breve di questo nuovo album a cui sto lavorando. L'album sarà un vinile, quindi non un cd o una semplice traccia ma un vinile, volevo che si facesse qualcosa veramente di unico e finalmente questo è arrivato il momento è un album suddiviso in due parti, una parte molto rock e una parte molto dolce, saranno due pezzi il primo si intitola L'Arbitrio, di questo pezzo non vi dico nulla perché lo ascolterete, è veramente fortissimo mentre il lato B, anzi no, il lato AA, è il secondo lato che poi sarà, sono tutte e due dei pezzi fortissimi si intitola Capitano ed è un pezzo che ho dedicato a un mio carissimo amico, Capitano America il nostro Capitano dei cuori eroi per bambini eroi con cui condividiamo momenti molto significativi, molto belli che abbiamo condiviso in questi anni, specialmente quando andiamo in missione con tutto il gruppo di persone fantastiche che donano un po' del loro tempo a questa missione, che è quella di portare un sorriso ai bambini meno fortunati o comunque a quelli che stanno male. Quando si va in questa missione ci si trova sempre, ci si porta sempre qualcosa a casa qualcosa che sta nel cuore, nella testa, nell'anima, specialmente quando c'è dietro sofferenza e dietro quella maschera si nasconde, oltre quel sorriso che portiamo, a volte un grande dolore e con questo pezzo Capitano vuole trasmettere proprio questo vuole dare a voi la possibilità di capire anche cosa si può provare in situazioni del genere la pre-order sarà divisa in due perché si potrà acquistare tranquillamente l'album che uscirà, penso, prima dell'autunno oppure donare direttamente al gruppo dei cuori eroi per bambini eroi come ho sempre fatto in passato, cerco di fare della mia musica e con la mia musica qualcosa di positivo e qualcosa che possa essere d'aiuto agli altri non solamente la passione per la musica ma che questa possa essere veramente un contributo fondamentale per aiutare qualcuno quindi io vi aspetto veramente, mi aspetto un gran successo sono 300 album li numererò uno per uno e li autograferò con Dedica quindi questo proprio perché possa essere unico io vi abbraccio, presto vi darò tutte le notizie l'album, la fase di arrangiamento viene fatta a Rimini da un grande professionista mentre la fase che sarà quella della ritmica e questa è una figata pazzesca e volerò a Londra nelle prossime settimane dove verrà completato praticamente il lavoro sarà un album suonato live, dal vivo e questo è una cosa bellissima quindi vi mando un abbraccio forte e vi aspetto veramente in tanti grazie ciao a tutti, buona vita e buon tutto per voi